Il mondo è un palcoscenico dove ciascuno deve recitare una parte, la mia è triste. Cialo, tutti e anch'io pensiamo che tu spinga questa tua malvagità fino al momento estremo per poi dimostrare grazie ai misericordi ancora più straordinarie di questa tua palese e innaturale pubertà. Ma a tutti noi è chiaro che da questo momento un po' Antonio pagherà per tutti. Lasciatemi andare. Belmonte squillano le trombe Tocca a Marocco che è nervoso si ritrova a giocarsi proprio tutto davanti Belmonte squillano le trombe Uno è d'oro e sopra sta scritto scegli me Scegli me E vissero tutti! No, non tutti.